musica 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 si ma il problema è che dopo un po' ho riuscito a chiuderla e farla tornare come prima come cacchio ho fatto non si sa e grazie alla potenza del del DJI con il carro da 52.000 litri sì è ovvio eeeh 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 ah eeeh eeeh no io pensavo che il Boeing 747 invece di cascar partere in buqueria da una turbina da mettere su qua il cammino eeeh ma come sa sarei ad andare tipo sarei ad andare nei luoghi dell'incidente torse un topo di aereo no basta che vai dopo un'ora no che lo vado a portare a casa ti senti su a porta battere grazie non so abbasso la porta abbasso tutto quindi ne approacherò l'entra in casa ecco questo 2 è sai che L bone è stato un scrivere americano e gli hanno fatto tipo losay gli hanno andato tipo gli sbirri in casa siuu gli hanno mandato tipo lefiii in casa e lui stava giocando è e lo우 su qua sta la streamando su twitch e non mi ricordo quando stavo giocando mi sa CS o una roba del genere in pratica sto fan di merda sto deficiente, gli ha fatto tipo lo scherzo gli hanno mandato tipo l'FBI in casa completamente a casa e non è anche sfondato anche la porta si 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 hanno sfondato la porta lo stavano arrestando e c'era anche la mia idea che guardavano il computer e non sapeva cosa cazzo fare e se lui tipo si sta suicidando in live che cazzo si mettono ancora la live e vabbè guardano ci sono al al My Little Pony si trova un altro Little Pony al My Little Pony vai vai scrivi compriami My Little Pony My Little Pony qui da Giants rimbambi i coglioniti si 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 guardavano anche lui il My Little Pony no no qui là guardavano My Little Cazzo no come hai detto il Pony Dio bestia madonna di Dio che cazzo mettoni sta merda qua ma vabbè ti senti che da fare la casa dell'ebreo qua no mi ha pezzato per la rincorsa con la russa che ha avuto ma perchè l'oggetto collide con l'oggetto ma se li rincotronconiti che cazzo collide dove adesso mi spieghi dove che collide come che te collide a me qualcosa dimmi dove tu collide siamo a sentire un tipo di porno ma che cazzo se che collide buonasera ma non puoi adesso me da un campo l'oggetto collide con un'ebreo ma qua c'è su una zona piana e so che c'è sicuramente qualche puttana qualche sporchiso che tastiera qui da vedere tutta roba? eh.. f4 decennas ocapa mmm tu dado id no 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 dimmo b ah no c'è c'è un cazzo non c'è niente ancora avevi fatto un appiccateraggio col molly non c'è niente a collidio non è la collidio che la raga è a casetta Dio 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 luca ogni volta che arriva a pisciare pensa ad avere una tega mora invece da uno centimetro momento 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 ah il pesce a venire dall'africa si pensa a essere stato e c'è anche il c- e c'è anche il cucco torneo avete visto quanto è bella questa strada è veramente funzionale tarda è buona adesso voglio provare a utilizzarla come rampa cos'è un macchina? la macchina dei mostriners è proprio il top no no cazzo la macchina è 1.400 è matti che esce un tuo droga guarda qua che uso la rampa guarda la strada proviamo a mettere la cucita eh cucita non lo vediamo un cazzo di niente cucita no da qua da qua da qua vedete che tutto è quanto bello piano la cucita non può essere acquistato di prova ovunque così da culo ah ah entra lì e perché vedo 1.400 di hindi tipo anywhere e dopo non ti alza a comprarlo che roba sia guarda qua che me lo segnerò su oddio avevo zegato guarda via vissero il campo 19 eh Marco codio che cosa hai fatto? eh proprio codio madonna ti ho detto che devi stare attento ad usare la mod cosa mi sono antipersi dove sei usato sia? io povero tu sei si è interruzziato ma cazzo non sbassarlo eh sono stati i problemi del percorso su eeeh però aspetta mi sa che ci può si aspetta vedo povera chi tanta giornata che ti mandi altri faranno cavoare ora c'è che vai qua? oh ci si sale a posto lascialo ci si sale si 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 sale ma l'altopiano eeeh o ci si sale o ci si sale o ci si sale l'altopiano dei musibili o ci si sale però sale DVD vende o vende proprio te eh ma ci devi modellare vende le cose nooo adesso vende la trincera hai la coccante keemoo lo stavo per dire vedi la trincera noooooooooooooooooooooooo la mia hai ok chi è giocco? io dan 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 non ti prego aspetta la raga no non tutti questi problemi mentali no cosa ne successe tutte ruote che flutano nell'aria e due potele raga c'è Marco che mi sta levando il piede da sotto corri gli inferi si stanno avvicinando sperando che sto me lo fanno raggiunga i 60 climatini oh guarda che dal paradiso degli inferi un attimo perché Marco? la mia è una turbina se devi andare avanti tanto perché vuoi salvare i miei 4 costa sta qua per lì mi è cascato W W W ecco calma mi ha sparito ho visto la scena di è Marco perché c'è la fl cosa che flutua? perché è desì che cazzo la casetta mi ha rotto i coglioni ma no ma perché sto flutuando? non lo so non stai a camminare che voglio spianare il mondo basta qua casetta se è cosiddetto bella no cosiddetto di grazie che ho problemi nooo oh ma te sembra il modo no no aspetta no regà che se stesso ti solleva il mondo non esistere il mondo si farò il motivo nol vadovi da Natale non esistirò il mondo ci salverò si è un bella buccia e creare infermi no, che c'è casita voi a te bella qualcuno mi sollevi non stai star qua non stai star qua nooo altrimenti non si alza più ero non si alza piccati tu adesso lo giochiamo io adesso mi devo giocare no 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 fare dio no 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 stare un castello da sabbia gantelli dottor di sono tra i miei e quattro anni non è anche rosso fare cazzo allora ed ora sai c'è un attimo dai no vigni dove che so mica c'è un problema e' un raggio di un problema e' molto molto grave ho visto il risultato e' risolvo smettino questo qua è la moda che fa il suo tiro qua in teoria io caro andiamo a dottorle cazzo si ma deve comprare i marocchini veda che cosa fa il basamento a casa del marocchino lei scappa in cavallo adesso che corre d'rio con la macchina su pascato quasi qua perchè? come cazzo fa? perchè mi ha avuto i problemi con il cavallo guarda con il cavallo che mi farà a bollare finchè te lo metti in culo allora che scappa in che maniera è? che vuol giare trazzo del pervertio tu vuol giare? aaaaaaahhh ecco vabbè c'è una mia sbroccata porca puttana nooo si è finocca mezzo ciao cazzo non sono io sovra da 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 gay aaaaaaah bene 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 uuuuuuuu uuuuuuuu uuuu 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 e ragazzi ora ho deciso di sposarmi aaaaaaaaaaahhh ditta che abbia sull'attore carreghe che vuola pizzeri uuuu 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 carreghe che vuoi a zegus che scioppa in cucina uuuu che momento di valoria altro che sciocchi con il carburo a te vedi cisterna da 20.000 litri in colmaia di carburo uuuu uuuu che va vuoi a via che il quarto è la casa uuuu uuuu e te lo presente e te lo presente quando c'è cosa qui sparta e ha che va avanti questo è sparta tutto l'esercito uuuu uuuu compagno fai veda fai veda a casi non lo so non lo so non lo so non lo so cazzo 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 cosa stai combinando ahahah ti ho messo il cappellino del cuvota che cappellino del cuvota se l'ho messo non sparare non sparare a vedere e la fame del deus eh orco cazzo forza deus leame beh casi casi ti puo spettartelo da uno che piaci sempre o la tazza brutto indrio torde qui i nomi le creo ma c'è neanche a marco ma vale che il motore di quei nuovi del mio 50 non è la mia deus che è il posto eeeh man fai fatti le urli mappe acqua di velo è molto maggiore dai dai che possiamo registrare dai boh jj 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 dei miei di jj jj quindi di 3, 2, vieni così qua, buona dai, 3, 2, 1, qui finito di schittarve lo so? Ma mi mi domanda se ti senti a sentire gallina quando ti è schitta se fa quel rumore guau o se ti lo senti C'è una intenzione tua o non sai proprio di queste cose? Mi dicono che hai diarrea? Mi pare, quando che... se no, quando che mangia il copio, che se mangia il nutvio no? No, quando che cag... Che caggine che è questo? Che caggine che caggine? Ma Marco, ma... Bruno come stai? Bruno che? Bruno BOREA! Andando su come vuoi un campo d'aeronautica militare per girarmi col carrello Guardi, mi immaginavo Marco che qua nel Polaro ti regalino la... Che schitta tio Guarda che mi senti bene perchè mi dice la stessa altezza Agri, ti senti bene schitta le dice la stessa altezza Yeah! Satti, prima che magari li faccio più, devi usare la gara Esatto! E' un po قال... Te li faccio anche quando tu scrivi il fuoco e tu ti capi Guarda tutti i puntini e buono Puntini e puntini, vai vedi tu puntini e puntini e puntini e... Il perchè caggine vuol dire che se devi continuare a scrivere ma non... No... Se lo posso! E' un pozzo! ma io devo fare anche un giro ma il maledetto ha caputato sto stronzo ho letto che c***o oggi ho edo guarda edo ho sentito che mai aspettate un attimo guarda che mi hai visto cosa ha fatto un po' da infarmi mi sono anche di giocare un pietino edo ho visto che la c***a edo tra i gassi una vena pastrata super che t***o io ho dato un cappota fa un c***o vieni anche al treno vieni anche al silo e vieni vieni anche a trincia e vieni a trincia e ah si un spettacolo hai soprattutto il muerto in fondo è la mostrina o no? Marco vuoi caricamento 8 8 piada che piccola è tutto o mei vado a dove sito? qua qua dove io a taser e quando ti fico freddo no questo è far l'alba in casa se mi si raffare vediamo un po' vediamo un po' la relazione mista qua io io come ho avuto l'immagine ardo ero in sottofondo che rideva come un deficiente ero in più ero in più oh 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 Ahahahahahhahahhahahhahah Beh v隅 da regazzarmi come a into Berufs Eh Sì Ahahahahara Ahah Ma che cosa vuoi do problemà Ahah Eh Ahah Ahah Non vuoi un problema Ahah T'ho detto Ma che scusano Il mio Ahahahah Non vuoi Non vuoi inizio ma questo è tipo un brusco per il tipo non ho mitato di una vacca con il bagnero dai signor fa la roba come si può mettere a posto terreno per finire anche se in grado di l'europe per il manco non è più caso perchè costi di un umano mandato per essi come che mi mette a posto il terreno che cazzo che io ho fatto? che cazzo che io ho fatto? dove cazzo sei la badilla? ferma tutto dove cazzo sei la badilla? eh, con tutti i tempi io caro, ieri tu tu stai, ci stai mi ammazza stai come sei a bassa stagionata, come sei anche a piazza guarda che stradea si è tutto quanto inclinata verso una parte, ti faccio i curi morchi o mi salto e te te la batti che c'è che io ho fatto? ah, niente nooo eh, tu una stradea hai fatto a basso, Marco io puoreto, vada le roba lei è di lupo per pescare questo vito lui ti fa una gettata, no? per riguattare ieri morchi e terra che bravo, io ho messo ma ho messo la roba, ho messo stagionata se è successo sta roba qua eh, perché frana la basso così succede questo no, è tu sinistro, anzi, dai strabassi perché frana la terra eh, non so di farlo mia Marco, si vuoi far danni? io cavare via, Dio, povero ah, ecco perché non mi fa mai vai in giro vai in giro vai in giro manca una ciocchetta qua guardate, adesso ho dentro un pasturino non so se che abbiamo gente che colla con sui miei scarpe paglietti vai in giro a te oi, giro a metti e tu hai visto quella polosa che è, guarda si, che si è una piazza di sosta no, cazzo, buttei, ho perso 2 euro mi ha mai come il cazzo è il caschetto è questi piazzi ti io madonna, zitta si che si chiude fecare in mezzo a favore che ho? no, che ho perso 2 euro ma il bello è che la di tega davanti a me venga forse se qua no, cazzo, questo cazzo è questo mi ha detto, che te è matti? ah, vediamo qua allora, davanti a il solevamento no, non mi accorlaro in giro con me vedo, guarda, prima che Marco non mi raccomi i tazzo madre di te, guarda è che ha ingrandito l'area delle ricerche adesso adesso, va, Grace, è ancora più difficile marca boia no ecco pensi che hai detto ehm mi ha fatto un zino qui comunque aspetta che voglio mettere basso nel prestaggio non no che non sia facile però non devi fare i muschi tu ti presenti a marco i muschini no? quando ti hai sempre messo i quelli è tipo uno altro da mare uno sparissimo magicamente eh ti presenti se ti sei se ti senti di tino eh ma ti stai a capire ma ti stai a capire? eh fiche però chiese no la fabbrica prova di nuovo come prima cosa cacchio bah eh eh no no eh no 격ta Mah winning se nato teennen Se mi metto basso stagionante, ti ti passi e ti vedi tutto quanto a terra in mezzo a strada Mi ti dico, eh, ho fatto una gettata bella abbondante Ti devi rinforzare la riga, ti chiede Allora, aspetta che vendimmo tutto Dai, metti, metti su ben e tutto torno Allora, meglio è torno, quattro kawaii Ah no, quattro kikin di sabio, no? No, vuoi rimpienirsi, tu rimorgo qua e sabio Vuoi te poi rimpastrare dopo Nooo Aspetta, 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 adesso sarà divertente quando Marco arriverà qui Foda, foda, foda Terra Hai visto dove sono? Sì, anche a me Aspetta, ferma, ferma, no, fermateli, fermateli Sì? No, adesso te vedo mia Va più, 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 veramente là Adesso mi vedo? No Adesso Sì Eh, oh, mi sono incastrato, scastrene Mi sono incastrato Mi sono distrutto il mare tipo Dov'è bubu? Dov'è bubu? C'è, c'è, c'è Bubu? Dov'è bubu? Dov'è bubu? Oh, che fa' altra piccolino là Aspetta, 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 tanto vai, senza buttarla Senza buttarla via Aspetta, guardo, aspetta, guardo, metti dentro Aspetta, 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 aspetta un attimo, che vuoi un pelettino avanti, proprio giusto E ora si incalca Boh Vai Qui avanti Mostarina muta Boh 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 Lì, lì, lì E' la senza travetta piccola Boh Vai Fammi importo tanto la mia macchina Boh Verete, quel colore? Dove foro? Tre Thrill Ten Ok Ti Finguam Fino 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 Sfino Fino 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 Così? Da quando ho fatto il trasporto? Ah sì? Che troiazza! Che puttanaste! Anzi basta coltivarlo direttamente per finire un campo. Ah perché fai i cavalli! Sì, fai qui a posto. Ah beh, qua la va bene secondo me. Io vado a te ben basso qua con te. Ficina, è giusto, è perfetta così. La è poi in anima. Eh, questa qua la va bene per Marco. E si batte la testa. E si batte la testa. E' una ora che il mio giugiarmi è il bucio della moto per incanzarlo. E' arrivato qua a tirare via tutto. Ma che marcello. E questo qua però fa due. Madonna. Madonna casica ma che ha tutto. Marco sai che ne prende due al colpo quello? E va bene ancora due al colpo. Ma mamma che c***o è tutto. Madonna oddio. Se dentro il carattino che era un parte che lo hai mi sa che è diventata una pistacca. Marco ma non aveva le funzioni di riempura al puto. E' un po' guai. E' un po' macinato. Marco non aveva le funzioni di riempura al basso il terreno. E' un po' guai. Dai che si deve caricare il latte. Deffi e brain. E' un po' sopì. Guardiamo se va le frecce. Come le frecce le va. Asi. Al retro. Vedo che ci sono poche ruote a terra qua mi sa. Maa. Io. Ho detto più. Guarda la rai. Se devi caricarti la sua rabbina è. Sì. Ma se ne trova. Sgancia fa un millisecondo. E' il winning è? E' il winning è? E' il win è? Io ho la fine. E' il win? E' ancora caputato. Ma mi sa che con abilità da pollo mi sento. Dio te. non ho commento è ancora fatta la volume no si è in testa e infatti vedo la dà problemi anche è in piccata la demo è in piccata la demo ti rompi i coglioni guarda che mestiere si vai vai ho fatto toccato a cazzo di cane guarda guarda questa è storta questa beh no questo lo sbagliate questa c'è merda questa c'è merda una e due l'ultimo lo sbagliate è pieno guarda l'ultimo tutto storto guarda che storto guarda qua guarda qua guarda qua ma che merda no ma questa cazzo che cazzo tu che sorrida sull'ultimo qua cazzo di cane stazionata qua cazzo stazionata si vabbè si a parte questa cambia fa un fettino storta questa da lontano spero viene uno che fa un fettino si esatto quella fa un fettino e panza ma non importa cazzo cazzo stazionata cazzo stazionata ma che aborto cazzo stazionata ma che aborto come cazzo stazionata cazzo stazionata cazzo stazionata E con questo abbiamo concluso, grazie dell'attenzione e arrivederci.